Dopo la conclusione della guerra latina nel 338 a.C., Roma controlla direttamente l'intero Lazio occidentale e parte della Campania. Inoltre, esercita la sua influenza sul territorio occupato dalle città della Lega Latina, sconfitte e obbligate a sottoscrivere patti che nelle scelte di politica estera le vincolano a Roma. In qualità di alleati obbligati, dunque, i latini combattono al fianco dei romani contro le popolazioni che aderiscono alla Lega Sannitica.